Sicuramente conoscete o avete già sentito parlare del Ganoderma lucidum, anche noto come Reishi. È un fungo ed è annoverato tra le sostanze terapeutiche naturali più efficaci esistenti in natura, tanto che in Cina e Giappone è considerato il fungo dell'immortalità. Oggi il Reishi è molto studiato e questo ha permesso di evidenziarne gli innumerevoli effetti benefici che può avere sulla nostra salute. Dall'effetto antiallergico, immunomodulante, antiossidante a quello epoglicemizzante, antibatterico, antivirale e tanti altri ancora. Questi benefici sono dovuti alle circa 400 sostanze bioattive che contiene, tra le quali i triterpeni, i polisaccaridi complessi, ma anche proteine, vitamine e minerali. Un interessante studio ad esempio ha dimostrato che 50 mg di polvere di Reishi hanno un effetto antinfiammatorio paragonabile a 5 mg di idrocortisone e questo spiega il suo utilizzo ai rapidi effetti anche in caso di malattie infiammatorie croniche. Inoltre il Ganoderma lucidum può essere un utile rimedio anche a contrastare la sindrome metabolica, grazie alla sua azione a livello cardiovascolare sulla produzione di colesterolo. In pratica è da considerarsi vero cibo per il corpo e la mente. Il Reishi lo possiamo trovare sotto forma di polvere, capsule o estratti alcolici. Non vi è tossicità associata al suo utilizzo, però attenzione se si stanno assumendo già farmaci come antipertensivi, anticoagulanti o ipoglicemizzanti, poiché potrebbe potenziarne l'effetto. Inoltre, come tutti i funghi che agiscono sul sistema immunitario, è sconsigliato se si stanno assumendo immunosoppressori.